Ehi, ricordi quando ti ho detto di essere aperto come sincero? Beh... Potevi anche dirmi di avere un fratello segreto! Eh, sfratello... Il DNA non funziona così! Papà, tu lo sapevi? Ah, che vuoi che ne sappia di membri segreti della famiglia, io? Oh, cavolo, che maleducata! Mai conosciuto nessuno della famiglia di Branch? Sono Poppy, sua fidanzata. Ci abbracciamo? Per ora pugnito e ciao ciao, e poi vediamo che succede? Facciamo tutto! Sì, ti conosco! Tu sei quello dei Browson! Li stavamo ascoltando prima! Sì, Browson! Ah, stai, 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 non dimmelo! Ah, ok, non sei rubacuori? Beh, questa è la tua opinione! Simpatico? No, sei rigidino! Rigidino? Il sensibile neanche! Ok, hai capito tutto per avermi conosciuto da 30 secondi! Ci sono! Tu sei John Dory! Il leader! Vecchio!